Potrebbe essere uno degli ultimi consigli provinciali a Brindisi, uno degli ultimi nel palazzo di Via De Leo. E all'ordine del giorno, unico e solo, proprio quello del futuro dell'ente, dopo il decreto del Consiglio dei Ministri sull'abolizione della provincia di Brindisi per accorparla a quella di Taranto, essendo questa provincia non estesa almeno 2.500 metri quadrati. La stessa è convocata su proposta di maggioranza ed opposizione. Si discute su quale percorso bisogna intraprendere per tutelare territorio e comunità, con la sua storia, le sue radici, la sua economia ed anche la sua politica. La maggioranza di centrosinistra, PD, Udcino, Icentro e PSI, sottolinea che con i tagli e trasferimenti non si potranno garantire i servizi essenziali ai cittadini e annuncia una battaglia a tutti i livelli, compreso quello parlamentare, per far modificare i requisiti numerici sui quali si è basato attualmente il Governo per tagliare alcune province. Nello stesso tempo, però, la maggioranza sostiene che una provincia senza poteri non ha alcuna utilità. L'opposizione di centrodestra, invece, attraverso il capogruppo del PDL, Nicola Ciraci, propone una battaglia per la istituzione della provincia di Terra d'Otranto, Lecce, Brindisi e Taranto insieme per essere più forti. A provocare le due parti, qualche ora prima dell'assise, ci pensa però il Presidente del Movimento Regione Salento, Paolo Pagliaro. Lanciando Brindisi come il motore per costituire la Regione Salento, l'unica soluzione, dicono dal Movimento, per difendere, tutelare e rilanciare la provincia di Brindisi e la sua comunità, Pagliaro chiede coraggio e coerenza al Presidente Ferrarese, che in passato aveva detto, se dovessero un domani abolire la provincia di Brindisi, a quel punto credo sia giusta la Regione Salento, a quel punto, se dovessi fare ancora politica, sarei il primo, quindi solo il primo, a dare un aiuto al Movimento. Sulla base di queste dichiarazioni, Pagliaro invita così Ferrarese, ci aiuti già a partire dal Consiglio Provinciale, a portare a casa un successo per l'intero Salento, sostenendo il progetto per un nuovo regionalismo. Ma Pagliaro si rivolge anche al PDL di Brindisi, che ha sposato l'idea di tenere insieme i tre territori salentini, di Brindisi, Lecce e Taranto, sotto un'unica insegna. Ma tale insegna non può essere quella di una maxiprovincia, dice il leader del Movimento Regione Salento, perché sarebbe solo un altro maxicarrozzone, senza poteri, senza risorse e senza rappresentatività, questa volta più grande e più inutile.